Un solo girone, tre retrocessioni, il meglio del calcio giovanile italiano. Pescara, unica società di B, al pari del Chievo, ha retrocesso lo scorso anno. Per i biancazzurri del neotecnico Nicola, le grottaglie avvio da brividi. Domani l'Inter vice campione d'Italia, ore 14 al poggio, sarà l'anticipo del campionato primavera 1. Quindi Lazio in trasferta, Sampdoria in casa, la scudettata Atalanta fuori. Con l'Inter domani squadra incompleta, l'imperativo è limitare i danni. Giuseppe Geria, responsabile del settore giovanile. Speriamo già dalla seconda di avere tutti i nuovi acquisti, che la prima giornata sicuramente non ci saranno per questioni burocratiche di tesseramento. Parliamo di? Manet, Diambò e altri tre ragazzi in arrivo. Purtroppo si stanno allenando ma ancora non abbiamo i tesseramenti. però lo staff saprà sicuramente come affrontare questa gara. È un anticipo, è un po' l'inaugurazione del campionato. Sentiamo una responsabilità e arrivare a questi traguardi è anche bello prendersela questa responsabilità. Sfida sulla carta proibitiva nel calcio, ma dire mai? Sì, si usa dire sulla carta. Diciamo così. Si usa dire sulla carta, sì. E poi si va sul calcio. Ci diamo coraggio, eh? Sì, ma diciamo che non dobbiamo scoraggiarci, perché sappiamo che bisogna crescere, sappiamo che, appunto come dicevo prima, dobbiamo conoscere il campionato. Io tengo pure a precisare che iniziano anche Under 15, Under 16, sono tutti gli altri campionati. Che non sono meno importanti. No, no. Noi mettiamo pari importanza dalla 13, che da quest'anno, diciamo, 13 e 14 faranno anche il campionato pro, quindi si affrontano tutte le squadre professioniste. La federazione sta dando questi input. Noi cerchiamo di creare questa filiera e portare più ragazzi possibili alla primavera. Borrelli giocherà in primavera? Borrelli giocherà, sì, giocherà in primavera. Ecco, c'è grande sintonia. Avere Zauri in prima squadra, che insomma viene dal settore giovanile, per noi, oltre che una grossa soddisfazione, è anche un grosso vantaggio, perché ci possono essere, e come ci stanno avvenendo, degli interscambi, anche per fare fare esperienza, come allenamento in prima squadra, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto per la nostra società. Bocic? No, Bocic per adesso... Prima squadra. Sta in prima squadra, è giusto che venga valutato, però è tutto in divenire. Noi ci confrontiamo settimana dopo settimana e poi sicuramente si opterà per le migliori soluzioni, soprattutto per i giocatori. La scelta di Le Grottaglie, ispirata proprio da Algeria? No, no, è stata condivisa un po' con direttivo e col presidente. Sicuramente non abbiamo qui manie di protagonismo oppure che uno decide sull'altro. C'è una grossa sintonia, devo dire che si sta creando veramente un bel ambiente per una crescita e soprattutto per valutare meglio con Di Battista, con Londrillo, con Bocchetti, con Repetto e col presidente, un po' cosa serve a questi ragazzi. Il presidente, devo dire, è molto attento e ci fornisce tutto quello che magari chiediamo. È chiaro che il materiale umano è fondamentale. Cosa può dare Le Grottaglie? Da giocatore si può dire. Le Grottaglie è anche il primo campionato di questa categoria, quindi anche lui avrà bisogno di qualche giornata, però ci sono tutti i presupposti per fare bene. Voglio ribadire un aspetto. Il comparto tecnico è molto unito e sta lavorando in grande sintonia.